Buongiorno a tutti, sono l'ingegnere Matteo Andreottola, sono un consulente tecnico di Rotoblass. Oggi andremo insieme ad analizzare quelle che sono le strutture innovative per grossi edifici in Xlam. Andiamo velocemente a vedere quale sarà l'indice di questa presentazione, quindi andremo inizialmente a parlare di angolari innovativi, come per esempio i Titan, poi andremo a concentrarci sull'attacco a terra della struttura in CLT con il prodotto Allustart, inoltre poi la connessione a taglio tra parete e parete di Xlam e per finire poi le connessioni che si possono utilizzare per edifici multipiano, anche se innovative come per esempio lo Spider e il Pillar. Come chicca finale un nuovo prodotto della Rotoblass che serve ad aumentare la rigidezza delle connessioni, non è altro che una piastra uncinata che viene chiamata Sharp Metal. Sappiamo tutti come le costruzioni in legno sono cambiate tantissimo negli ultimi anni, quindi siamo passati ad avere piccoli edifici come questa piccola baita di montagna con struttura in legno, adesso invece si stiamo muovendo verso grosse strutture multipiano in legno lamellare, mass timber oppure utilizzando l'Xlam, come vedremo. Questi due esempi nelle fotografie. Quindi queste grosse strutture in legno portano con sé dei carichi molto maggiori, quindi c'è l'esigenza di andare a studiare ed ingegnerizzare quelle che sono le connessioni di questi grossi edifici. Qua vediamo per esempio alcune connessioni alla base del grosso edificio fatto a Rovereto a cui è partecipato anche la Rotoblass e vediamo qua quelli che sono i connettori all down alla base, quindi degli elementi a disegno enormi, questo solo per avere un'idea. Ci sono chiaramente molti altri connettori standard all'interno del nostro edificio e diciamo che con questa presentazione andremo un po' a vedere quelli che sono i connettori più innovativi, quelli che sono usciti nel mercato, sono stati ingegnerizzati da poco e quindi probabilmente anche gli strutturisti conoscono un po' di meno. Andiamo innanzitutto a vedere un po' l'approccio che si ha per per fare le verifiche delle pareti di taglio in legno, quindi l'approccio standard è quello di avere gli elementi all down come quelli che abbiamo visto precedentemente nella parte finale, nell'estremità della parete ed avere i connettori a taglio nella parte centrale. Già un approccio più innovativo è quello di avere dei connettori che riescono a sorreggere allo stesso tempo sia sollecitazioni di trazione che sollecitazioni di taglio, quindi si va verso un unico connettore che riesce a fare entrambe le cose. L'innovazione più totale è quello di concentrare tutte le solleciazioni sui nodi in modo tale che con un nodo concentrato riusciamo a risolvere tutta la connessione e questo chiaramente porta dei vantaggi dal punto di vista della velocità di esecuzione. Angolari moderni sono come per esempio quelli che vediamo nella fotografia, quindi i titan. Questi fanno parte della famiglia di angolari che riescono a sorreggere sia forze sollecitazioni di trazione che forze a taglio e in particolare lo si fa aggiungendo all'angolare classico, questo titan washer, ovvero una piastra di acciaio di spessore maggiorato che va ad unirsi al connettore e quindi grazie a questo ausilio riesce quindi a sorreggere anche forze di trazione, altrimenti a causa dell'eccentricità vediamo subito come questo connettore si deformerebbe, quindi non sarebbe più verificato per forze importanti di trazione. Un altro esempio, però questa volta legno-legno, sono per esempio angolari moderni con viti di diametro 8, anche queste portano un'innovazione perché invece di avere tanti chiodi si utilizzano meno viti e grazie a un numero minore di connettori si riesce ad aumentare la velocità, cosa fondamentale nelle strutture di grande dimensione, aumentare la velocità di esecuzione ed inoltre si possono utilizzare, come vediamo nella figura, degli avvitatori per posare queste connessioni, quindi con meno rumore, meno vibrazioni in cantiere, più velocità. Un altro connettore secondo me ancora più innovativo è questo che vediamo nella figura, quindi qui possiamo veramente vedere come l'ingegnerizzazione della ditta Rotoblast avviene, andando con una semplice operazione, quindi andando a eliminare completamente quella che è l'eccentricità del connettore e spostando queste viti a tutto filetto nell'angolo del connettore stesso, riusciamo ad ottenere una resistenza del connettore molto importante e vediamo infatti qua come la resistenza caratteristica immasso nella slide, lato legno, sia addirittura a 100 kN, quindi con un elemento molto semplice riusciamo a portare via delle forze importanti. Anche la resistenza a taglio caratteristica di 60 kN lato legno è molto importante, quindi già qui grazie all'ingegnerizzazione si è arrivato con un prodotto semplice a fare un grande passo avanti. Altra cosa positiva di questo connettore è il fatto che si possa utilizzare un unico connettore in tutto l'edificio, facilitando le operazioni di cantiere, si possa utilizzare un unico connettore anche quando lo spessore delle pareti in X-LAM varia e inoltre se si vuole lasciare la parete a vista non si ha la scomodità di avere un hold down molto alto ed importante che andrebbe quindi a non rendere possibile questa cosa. Vediamo alcuni dei test sperimentali eseguiti da Rotoblast e qui nell'angolo in basso un test sperimentale di dominio di resistenza, quindi quando abbiamo una resistenza a taglio e a trazione abbiamo sempre un dominio di resistenza entro il quale dobbiamo essere per avere la verifica. Altra cosa molto importante da dire quando si parla di connettori di pareti di taglio quindi che vanno a prendersi delle forze sismiche è il fatto della duttilità, cosa fondamentale per riuscire appunto a garantire un comportamento della struttura duttile. Infatti come sappiamo il legno non è un materiale duttile quindi la duttilità deve risiedere, deve stare proprio nelle connessioni. Altro fattore fondamentale per le strutture in legno è quello dell'attacco a terra. Infatti per garantire una durabilità adeguata della struttura in legno, una delle cose più critiche sicuramente, visto che il legno è un materiale naturale comunque, è quella di fare un attacco a terra corretto. Quindi questo deve proteggere sicuramente la struttura in legno da quella che è la risalita capillare e da quella che è l'acqua meteorica di rimbalzo o di ruscellamento che arriva alla struttura in legno. Vediamo come facevano inizialmente i nostri avi in baite di montagna, in maniera molto furba sollevavano la struttura in legno o addirittura la alzavano da terra completamente avendo una lama d'aria al di sotto. Come si fa al giorno d'oggi? Abbiamo un classico dettaglio, quello di avere questo cordolo di calcestruzzo che solleva fisicamente quella che è la parete in CLT dalla fondazione. Questo è sicuramente una connessione che funziona, viene usata moltissimo, ma presenta un problema, quello delle tolleranze. Le tolleranze delle strutture in CLT sono minime, diciamo al millimetro, mentre invece le tolleranze della sottostruttura di fondazione in calcestruzzo armato sono invece del centimetro. Quindi qualche volta abbiamo proprio dei problemi in cantiere per questa diversità di tolleranze. Una soluzione con Alustart, che è appunto questo connettore della Rotoblast, è quello appunto di avere una sezione estrusa in alluminio su cui proprio possa sedere la nostra parete in X-LAM. Quindi in questo caso la parete in legno può essere sollevata completamente da quello che è la fondazione. Inoltre questa Alustart è anche chiaramente una connessione strutturale, quindi ha una resistenza a taglio, compressione, grazie ai connettori che vediamo qua. Quindi connettori chiodi sulla parte laterale, come vediamo nel render, e delle barre che vanno a immergersi nel calcestruzzo sotto la parete stessa. Per mettere in bolla in maniera precisa questa struttura in legno si utilizzano delle dime. In questo caso ci sono dime lineari oppure ad L, a seconda della geometria della nostra connessione. Queste dime c'è da dire che si possono riutilizzare più volte, quindi si usano per mettere in bolla e vedremo come nelle prossime slide la parete e poi si riutilizzano completamente. Quindi si può mettere in bolla innanzitutto nelle due direzioni, grazie a queste viti che si possono girare. Una volta messo in bolla il profilo estruso di alluminio, si va a gettare una malta incomprenibile sotto l'ostrusione di Alustart, in modo tale ad avere un appoggio preciso e veloce di quella che è la nostra struttura e riuscire in questo caso a fare un'ottima connessione in poco tempo. Vediamo il disegno di questa connessione. La Alustart 35, che è la piccola sezione che si può aggiungere alla sezione principale, serve proprio ad aumentare la lunghezza di questo appoggio in modo tale che possa essere utilizzato per vari spessori di X-LAM. I connettori che vengono utilizzati sono chiodi e viti per la connessione lato legno e invece dei connettori per calcestruzzo per avvitabili oppure ad espansione lato calcestruzzo. Possibile utilizzare anche chiaramente delle resine per arrivare a delle resistenze maggiori. Questo connettore ha resistenza in tutte le direzioni, quindi sia a trazione che compressione che a taglio in tutte le altre direzioni e non ha bisogno di connettori a taglio come quelli che abbiamo visto prima, quindi già capiamo come questo può essere un miglioramento nella velocità di esecuzione. Abbiamo tre tipi di resistenze quando si va a calcolare questo connettore, lato legno innanzitutto la resistenza del materiale alluminio e lato calcestruzzo. Per avere un'idea di quello che sono i valori di resistenza a compressione, ecco qua cerchiato 721,9 kN al metro è la resistenza caratteristica di questo profilo, quindi possiamo già capire come questo profilo può essere utilizzato anche su strutture in multipiano perché questo è proprio un carico importante. Quindi abbiamo già detto come un connettore di questo tipo aumenta quella che è la velocità di cantiere, questo è veramente fondamentale nei grossi cantieri moderni e la qualità dell'esecuzione è proprio quella di ottenere la massima precisione di posa con il minimo impiego di tempo ed è questo che secondo me dà il successo proprio di una soluzione di questo tipo, facilmente tagliabile in cantiere con una sega circolare come vediamo dalle immagini di cantiere. Andiamo adesso a vedere un altro connettore, un connettore a taglio, questo prodotto si chiama slot. A cosa serve? Serve a connettere pareti di XLAM, pareti che si vogliono, che devono comportarsi in cantiere come una parete unica ma per esigenze per esempio di trasporto o di produzione devono essere tagliate in diversi segmenti, come vediamo nell'immagine per esempio. Come si fa solitamente nei cantieri che tutti abbiamo visto più volte di XLAM a ricollegare queste pareti di XLAM, solito si utilizzano viti oppure delle connessioni mezzo legno oppure con tavoletta di legno come vediamo nelle figure a sinistra. Queste ci vogliono molte viti per andare ad avere la rigidezza e connettere in maniera rigida i due pannelli in modo tale che si comportino proprio come uno solo e quindi l'ingegnerizzazione ha portato alla ideazione di questo nuovo connettore. Sempre un'estrusione di alluminio e con solo due viti e con una grande portata, quindi si possono porre pochi di questi connettori si riesce ad ottenere una grande resistenza e soprattutto invece di avere un comportamento più duttile della parete si arriva a far lavorare veramente la parete come un elemento monolitico, quindi come un'unica sola parete di taglio. E questo chiaramente grazie alla rigidezza della nostra connessione. Vediamo subito qua dei disegni in dettaglio di quello che è il connettore e subito per parlare di nuovo del risparmio di tempo, capiamo quanto ci vuole, quanto tempo ci vuole a installare tutte le viti che si devono utilizzare per avere una resistenza adeguata tra un pannello e l'altro e quanto invece poco ci si impiega a inserire questi quattro slot con due viti ciascuno, quindi questa è la forza di un'applicazione di questo tipo. Le resistenze dipendono un po' da quelli che sono gli strati dell'XLAM che si va a utilizzare, sono facilmente calcolabili grazie alle schede tecniche fornite da Rotoblass e si possono utilizzare sia in parete che in solaio e anche su pareti a più livelli. Quando si va a parlare di edifici multipiano non si può non parlare dello Spyder, un altro connettore veramente innovativo lanciato da poco da Rotoblass e vediamo un po' il funzionamento e il concept che ha portato allo sviluppo di questo prodotto. Conosciamo tutti strutture in calcestruzzo che non hanno travi secondari e principali ma solamente un solaio continuo al di sopra, il problema in una struttura di questo tipo è il funzionamento della struttura in calcestruzzo. Allo stesso modo quindi gli ingegneri del calcestruzzo in questo caso hanno sviluppato dei sistemi che potessero andare a resistere al taglio di funzionamento, al funzionamento locale che si ha intorno alla colonna in questo modo. Allo stesso modo anche con il legno possiamo avere strutture con travi principali e secondarie come quelle che vediamo in figura oppure possiamo optare per strutture completamente prive di elementi principali e secondari ma solamente con soletta continua in legno, in X-LAM in questo caso. Abbiamo chiaramente anche qui lo stesso problema che abbiamo già spiegato per il calcestruzzo e quindi diciamo che lo spider va proprio a risolvere questo problema. Quindi ha il carico che viene dai piani superiori che viene portato giù risolvendo il problema della resistenza perpendicolare alla fibratura tramite la struttura metallica dello spider. Inoltre queste viti, queste braccia metalliche con viti inclinati vanno innanzitutto ad appendere il solaio, quindi a prendersi la forza del solaio e riportarla giù all'interno del pilastro inferiore ed inoltre vanno anche a resistere a una sollecitazione di rolling shear all'interno dell'X-LAM. Le resistenze anche qua le possiamo trovare sulla scheda tecnica, sono tutte già tabellate quindi molto comode da utilizzare e vediamo come si compone lo spider, di quali pezzi si compone. Va messo a una distanza opportuna da quello che è il lato dell'edificio in legno. Vediamo adesso un altro fratello diciamo dello spider, vedremo in seguito un fratello dello spider che è il pillar che invece può essere posto molto più vicino a quello che è il lato del solaio in X-LAM. Sempre stare attenti all'applicazione acciaio-legno delle viti, utilizzare il giusto torque con chiave dinamometrica e un'altra cosa da sottolineare è il fatto che grazie all'acciaio e alla resine si possono creare delle solette continue di X-LAM, cosa che altrimenti sarebbe più difficile, arrivando anche a una luce, a un interasse tra i nostri pilastri di 7 metri, quindi interasse veramente importanti. Oppure si può decidere di optare per una connessione più semplice, tra virgolette, e utilizzare una specie di trave in spessore come vediamo qua in X-LAM che sorregge il solaio superiore ordito nell'altra direzione. Quindi anche qua il time saving è fondamentale, nel senso che abbiamo meno connessioni da fare, abbiamo più spazio, quindi addirittura ogni tot piani avremo un piano extra, perché non abbiamo elementi che scendono rubandoci spazio, risparmiamo un sacco di materiale per travi e impianti che se no dovrebbero passare attraverso le travi, che è molto complicato da fare, e chiaramente la finitura architettonica molto pregiata, che con legno anche ha vista. Parlavamo prima dell'altro fratello, l'altro connettore che si può utilizzare per evitare il problema di compressione perpendicolare alla fibratura del solaio in X-LAM, e questo è il Pillar appunto. Con il Pillar sono già stati eseguiti degli edifici con una tecnologia simile, come vediamo il Brock Commons a Vancouver nel 2017, questo però aveva una distanza tra i pilastri molto inferiore, a quella che si può raggiungere utilizzando il Pillar. Vediamo inoltre che si può mettere all'interno del Pillar anche un profilo acustico che rende ottimale la connessione anche da un punto di vista acustico, cosa molto importante in edifici di grande dimensione. Questi sono i pezzi di cui è composto il nostro Pillar e questo è il metodo in cui va a essere montato. Dal punto di vista proprio degli sforzi, abbiamo una forza che arriva dalla colonna, dal pilastro superiore, le forze che arrivano dal solaio, che questa volta vanno a essere portate per contatto sulla piastra inferiore della nostra connessione e quindi eventualmente anche rinforzate con vite a tutto filetto e abbiamo poi il carico finale sul pilastro inferiore. Anche qua tutte le resistenze sono già tabellate sulle schede tecniche Rotoblass e anche qui possiamo andare ad avere una soletta continua con vari metodi che abbiamo già visto prima per lo Spider. Andiamo un po' qui negli ultimi minuti a vedere quelle che sono invece un'ulteriore connessione molto innovativa ed è questo connettore uncinato, lo Sharp Metal. Che cosa serve questo connettore uncinato? Si va a porre, ad esempio vediamo questa figura a sinistra, questo connettore uncinato si va a porre sull'estradosso superiore della trava in legno, poi si va a porre quello che è la soletta in X-Lam avvitata superiormente e grazie appunto a questi uncini che collegano il solaio collaborante, in questo caso legno-legno, si ha una rigidezza della connessione molto superiore quindi con molto poca deformazione già si arriva ad avere una rigidezza molto molto importante. Come funziona un connettore di questo tipo? Funziona proprio in questo modo, ci sono due tipi di densità di questi uncini, perché si fanno due tipi di densità, proprio perché una densità minore vuol dire che con una compressione minore data da queste viti a testa allargata, una compressione minore si riesce a avere già il perforamento all'interno dei due elementi strutturali da parte di questi uncini metallici e subito si riesce ad avere la resistenza che si cercava, mentre invece chiaramente una più alta densità di questi uncini fa in modo tale che si riesca ad arrivare a più rigidezza, un'ulteriore più rigidezza e chiaramente più resistenza anche della connessione stessa. Fondamentale è chiaramente il fatto di avere una vite che colleghi queste due parti in legno e le pressi insieme in modo tale da avere la connessione adeguata. Vediamo come qua a destra nella figura, come già solamente con la pressione di queste viti a filetto parziale a testa allargata, si è riusciti al 100% ad avere una penetrazione degli uncini metallici all'interno del legno. Vediamo un attimo quelle che sono le resistenze, le resistenze e le rigidezze di questa connessione. Vediamo nel test di laboratorio innanzitutto come sia possibile inserire le viti superiormente senza dover fare un preforo, quindi la vite è già capace di perforare la sottile piastra metallica senza bisogno di nessun preforo e anche questo è un aiuto per la velocità di esecuzione. Vediamo inoltre come il failure mode che vediamo qui è proprio quello dello strisciamento di questi uncini all'interno del legno, quindi questi uncini che si infilano all'interno del legno vengono proprio sollecitati e aumentano la rigidezza della nostra connessione. Per calcolare la rigidezza della connessione viene comunque già presente nelle schede tecniche il K-SER come ho riportato qui nella slide. Abbiamo qualche minuto per qualche domanda, abbiamo un paio di minuti finali per qualche domanda, altrimenti io vi ringrazio per l'attenzione e vi ho lasciato qui alla fine della mia presentazione la email se dovreste avere delle ulteriori domande oppure se dovreste essere interessati a uno dei connettori che abbiamo velocemente spiegato nella presentazione di oggi. Ovviamente l'ufficio tecnico di Rotoblas, l'ufficio di consulenza tecnica, è sempre aperto a domande da parte di interessati sui prodotti, quindi aspettiamo molto volentieri le vostre domande. Vi ringrazio per l'attenzione.